Il giudice del prossimo raggruppamento è la signora Ceccarelli E andiamo con il primo di questo raggruppamento Alaska Malamut Podenko Ibischenko Podenko Ibischenko Samoyedo Sibeni Agnasky Chovchov Basenji Lapicoria Shiba Volpino Italiano Piccolo Spitz 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 Il giudice sta osservando il soggetto Alaska in movimento. Il giudice sta osservando il soggetto Alaska in movimento. Il giudice sta osservando il soggetto Alaska in movimento. Il giudice sta osservando il soggetto Alaska in movimento. Il giudice sta osservando il soggetto Alaska in movimento. Questo raggruppamento comprende anche i cani da slitta come l'Alaska, il Siberian e il Samoyedo. Sono cani che traino le slitte e sono cani che vivono tranquillamente alle temperature dei 30-35 gradi sotto lo zero. Questo è il Chow Chow. La particolarità di questa razza è quella di avere un palato e una lingua di un colore bluastro. personale delle pulizie per cortesia nel ring d'onore. il personale delle pulizie per cortesia nel ring d'onore. 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 Ora vedremo il Shiba. Grazie a tutti. Volpino italiano. Piccolo spitz. 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 Al terzo posto, Alaska. Secondo posto, Podenko e Bisenko. E al primo posto, Siberian. La cocarda. Adesso è solo. Potevano dire prima. Potevano dire prima.